Allora, ecco, perché il potenziale è una parola pericolosa? Ora, non fai intedere, intedemi, che cosa voglio dire con questo? Tutti abbiamo tanto potenziale, abbiamo così tanto potenziale che molto spesso questa frase con il quale mi confronto nelle organizzazioni, con le persone, nei team, con dei leader e nel network. Il potenziale è veramente una parola potente. Il potenziale dà così speranza, perché quando c'è il potenziale le persone possono sapere che possono attingere ad una forma comunque di energia che ti porta da qualche parte. Il potenziale è una parola potente, significa che c'è una possibilità, che c'è una probabilità, che potremmo migliorare, che potremmo riuscire ai nostri obiettivi. Quindi quando parliamo di potenziale parliamo di una parola, effettivamente una parola importantissima per tutti quanti noi. il potenziale significa che è probabile, che le cose migliorino, che le cose potrebbero essere diverse da quelle che vorremmo, che in qualche modo dalla situazione attuale, e che vorremmo raggiungere, vorremmo organizzare, vorremmo vedere realizzate nella nostra vita. Ma fermiamoci un attimo. Abbiamo tutti il potenziale, abbiamo tutti la possibilità di poter esprimere il nostro potenziale. Tuttavia voglio essere anche onesto, fino in fondo, con tutti quanti noi, nel mettere il nero su bianco e cosa significa potenziale. Perché potenziale è anche una parola pericolosa. Il potenziale può darci false speranze, il potenziale spesso non è utilizzato, non è abusato, solo perché magari un atleta ha il potenziale, non significa che diventerà tutto ciò che potrebbe diventare il campione che magari c'è dentro di sé. E questa è una grande verità. Se tutti hanno un potenziale, come ti ho detto anche in un altro video, non significa che tutti riusciranno nel business. Allora, quando dico che il business è per tutti, ma dipende da come utilizzi il tuo potenziale, ti voglio dire proprio esattamente perché il potenziale è una parola pericolosa e perché è così importante tenerla d'occhio. E così questo vale per me, vale per te, vale per tutte le persone. Solo perché abbiamo un grande talento, un grande potenziale, una posizione fantastica, abbiamo delle persone fantastiche intorno a noi, abbiamo delle opportunità di mercato che in qualche modo sono lì di fronte a noi e serve solo prenderle. In realtà questo significa, ma non significa anche molto, ok? Non significa che vinceremo tutte le nostre battaglie sul mercato. Io conosco tantissime organizzazioni, tantissime persone che si trovano in mercati fantastici, con persone fantastiche, in posizioni fantastiche, che hanno anche un grande talento, ma non stanno vincendo le loro vittorie. Questo perché? Perché il potenziale tende a disperdere energia, disperdere energia delle forze esterne, cioè tende ad addossare, a scaricare responsabilità, piuttosto che a livello personale, sulla mancata magari propensione all'attitudine, a fare le cose quando vanno fatte, piuttosto che al fatto, a quello che accade. Il potenziale ci spinge da una parte a sfruttare lo slancio del fatto che abbiamo un talento per fare delle cose e del potenziale per poterlo fare, ma poi in qualche modo puoi immaginare che le cose vengano di conseguenza quando in realtà si stanno fermando. Perché? Perché tu hai smesso di metterci l'impegno che serve. Il potenziale ci porta a credere che siamo migliori di quello che siamo, quando in realtà probabilmente ne siamo un po' meno. Il potenziale ci fa dare molto meno del nostro meglio, del nostro massimo. Tende sicuramente a darci speranza, ma la speranza non è una strategia. Il potenziale è qualcosa a cui possiamo attingere, ma attenzione, il potenziale, come ti ho fatto capire in questo che ti ho appena detto, è anche veramente una parola pericolosa. Ora, non fraintendiamoci, non fraintendetemi, il potenziale è, e può essere potente, è potente, ma per chi lo riconosce, per chi non si ferma, per chi lo vede come un punto di partenza e non come un punto di arrivo o un pozzo a cui attingere in maniera come se fosse il pozzo di San Patrizio, che non finisce mai. Allora il nostro business, i nostri clienti, il nostro team, il talento che abbiamo, sono questioni, sono cose che vanno affrontate attingendo al nostro potenziale, ma allenando e affrontandole con i giusti passi. Sono potenziali questioni, ogni cosa, ok? Ma basta riconoscere che il potenziale può essere pericoloso per fare i passi giusti. Quindi cosa facciamo in questo video per poter attingere al nostro potenziale? Beh, come possiamo anche rispondere alla domanda come possiamo essere sicuri a sfruttare al meglio il nostro potenziale? Beh, la prima cosa è non barare con te stesso, con te stesso. Ma quindi significa lavorare più degli altri, significa lavorare quella ora, mezz'ora, quel tempo necessario in quella cosa che vuoi migliorare più degli altri. Fai un lavoro più, come dire, più importante degli altri. Michael Jordan con il potenziale che aveva, con il talento che aveva, ma nel momento in cui si allenava un'ora prima e un'ora più dopo rispetto a tutti gli altri, quando il giornalista gli disse ma perché tu che sei Michael Jordan ti alleni un'ora più degli altri? E lui rispose, proprio perché voglio continuare a mantenere, a essere Michael Jordan, mi alleno un'ora più degli altri. Allora, dai la caccia a tutte quelle cose che ti possono portare fuori dal massimo impegno. Dai la caccia a tutti quei tuoi collaboratori e tutte le persone che non fanno esattamente, che non danno il loro massimo in quello che fanno. Spingi tutti, chiunque ha intorno a te, a dare il loro massimo. Allenali sul punto di tensione del massimo impegno, del punto quasi di rottura nel quale le persone, tra virgolette, sanno che possono dare di più. E su questo si disciplinato, disciplinata, si coerente, fai le cose che devi fare anche quando non ne hai voglia, si coerente con le tue abitudini professionali che hai scelto di mettere nella tua organizzazione, cascasse il mondo, piovesse, nevicasse, se c'è 40-60 gradi all'ombra, beh, il calendario viene prima di tutto. Guida te stesso per prima o te stessa per prima se vuoi guidare gli altri. Le persone non sanno, non sono consapevoli molto spesso del proprio potenziale, del proprio talento. Tendono a fare allora qualcosa che in qualche modo, pensando di fare qualcosa che magari è difficile, quello significa fare, come dire, allenare il proprio potenziale. E' certo che così falliscono, perché lavorare sul proprio potenziale non significa fare le cose più difficili. Scoprire il potenziale, devi fare affidamento se lo vuoi conoscere, non facendo le cose difficili, ma ascoltando ciò che c'è intorno a te. Le persone intorno a te sanno molto più del tuo potenziale che di quanto tu ne sia consapevole. Allora vuoi scoprire il tuo potenziale? Vuoi allenarlo? Vuoi veramente tirarlo fuori? Beh, ascolta, chiedi, chiedi alle persone che sono intorno a te, ai tuoi collaboratori, chiedi ai tuoi clienti, riguardo che cosa? Le qualità che notano in te. Scrivile. Basta notare queste qualità e puoi capire tanto del tuo potenziale, in che cosa lavorare per poterlo sviluppare ancora di più. Allora ci sono tanti modi per poter veramente scoprire i tuoi potenziali, il tuo potenziale nascosto. Il modo migliore che io conosco, che mi ha fatto in qualche modo tirare fuori il meglio di me, è stato quello di scegliere, di fare una scelta pazzesca che io voglio fare insieme a te, voglio condividere. Beh, è stato quello di diventare uno studente a vita. Il motivo per il quale io mi spingo a comprare X libri ogni mese è perché ascolto, leggo, noto, vedo, consigli, ascolto i consigli delle persone, ascolto i consigli di chi in qualche modo ha scritto qualcosa di importante, le parole vedrete quanto sono importanti. Le parole sono tutto, perché le parole scelte non si scelgono mai a caso, le parole hanno un significato profondo e incidono, ed è scientificamente, umanamente, ma soprattutto psicologicamente provato che le parole hanno un punto di contatto con il nostro campo emotivo. Allora, spesso le persone intorno a te sanno di che pasta sei fatto, anche quando tu non hai una minima idea. Se le persone intorno a te ti danno dei suggerimenti e ti parlano delle tue qualità, beh, prenderle sul serio. Devi renderti conto che queste qualità che attingono ai tuoi talenti nascosti, se in quel momento sono per te ancora all'oscuro, quando diventi uno studente a vita, uno studente costante, assorbi quella conoscenza e la fai diventare quell'opportunità per te, diventi più consapevole veramente di quello che in qualche modo è l'opportunità che la vita, il mondo ti ha dato. Allora, è possibile che forse l'unica cosa che in qualche modo ti trattiene da accogliere il tuo potenziale sia un'abilità, sia una conoscenza, sia una competenza che attualmente ancora non possiedi? Beh, lavoraci sopra, investi, perché è la migliore opportunità che la vita ti ha potuto dare. Leggi, perché quando leggi ottieni delle prospettive completamente diverse, punti di vista completamente diversi. Se posso darti un suggerimento, vorrei non essere di parte, ma in realtà lo devo essere per forza. Beh, diventa un coach per i tuoi clienti, diventa un coach per i tuoi collaboratori, diventa un coach per te stesso, per te stesso. I leader, i veri leader, fanno dell'apprendimento la loro vita. Sono leader sempre, sempre in crescita. E i leader che fanno dell'apprendimento della loro vita, fanno della crescita la loro vita e nella crescita guidano all'apprendimento le organizzazioni che, guarda caso, sono in crescita. E questa è la linea di fondo che in qualche modo ti deve guidare, che ti deve spingere a capire che il potenziale, se lo lasci lì, è una parola pericolosa sicuramente, ma se lo utilizzi con il tuo massimo impegno e ci metti tutta te stessa o tutto te stesso, beh, diventa veramente qualcosa di pazzesco. Ho scoperto una cosa, ho imparato una cosa che mi ha sconvolto piacevolmente e te la voglio condividere in questo video. Impara a scrivere meglio. La scrittura migliore porta a pensare meglio e un pensiero migliore porta a una migliore comunicazione. Una migliore comunicazione porta, guarda caso, a risultati nella tua carriera pazzeschi e guarda caso attira poi tanti clienti. Allora, che cosa Marco? Ma non avevo mai pensato che magari la scrittura fosse così importante. Beh, quando diventi bravo nella scrittura, in quella cosa, beh, quella struttura che in qualche modo ti ho appena detto ti aiuterà a migliorare tantissime altre cose. Allora, a me ha funzionato tantissimo imparare a scrivere in modo professionale. studia il copy, studia il modo con il quale migliorare la tua comunicazione per arrivare al cuore delle persone. Fai in modo di iniziare a scrivere in modo professionale e ti rendere conto che quando io, io per me, quando ho iniziato a fare tutto questo, beh, tutto intorno a me ha cominciato a funzionare. Quando divento uno scrittore migliore puoi fare veramente più facilmente esprimerti e iniziare a fare dei collegamenti tra le tue emozioni e le emozioni che ci sono nei tuoi clienti, nei tuoi collaboratori. Questo migliorerà la tua carriera, questo migliorerà il tuo business, questo farà di te un imprenditore che sa usare le parole nella maniera giusta. Questo fa della tua carriera in professionale un risultato che probabilmente non avresti mai immaginato di raggiungere. Io non so se poi capita anche a te, se capita anche a voi che mi state ascoltando, se a volte non vi sembra, non ti sembra di sprecare il vostro potenziale, che a volte anche che ti senti insicuro su come raggiungere in qualche modo il tuo pieno potenziale, sai che stai dando il tuo vero massimo. Se è così, se ti capita anche a te, beh, stai tranquillo, stai tranquillo. È tutto normale. Se è così, sei come una qualsiasi altra persona ambiziosa che vuole ottenere il meglio della propria vita. E questo significa che ognuno, sei sulla strada giusta per poter raggiungere il tuo vero potenziale. Allora in questo voglio darti un piccolo suggerimento dal mio punto di vista. Se questa è la tua pulsione, come dice Freud, la tua pulsione di vita, beh, non perdere tempo. Il potenziale si nutre del tuo tempo. Il tuo potenziale, il tempo di vita, il tempo di lavoro, quando sei al lavoro, in qualche modo, beh, lavora per migliorare i tuoi punti di rottura, cioè il tuo massimo impegno. Forge il tuo potenziale. Alza sempre di più un centimetro sulla tua asticella. Un esempio su tutti è stato il grande saltatore di salto con l'asta, il bucca, il saltatore russo, che in qualche modo è stato finora il miglior saltatore in qualche modo con l'asta che fin qui è esistito. Tutti i record in qualche modo li ha battuti grazie proprio al suo potenziale, ma il suo impegno. Allora lui sì che è un esempio di come riconoscere e di come utilizzare il proprio potenziale mettendoci in massimo, su come sfruttarlo al meglio, su come in qualche modo utilizzarlo per crescere sempre di più e come fare in modo che questo possa programmare la propria mente, la propria mente, la nostra mente, la sua mente utilizzandolo a sfidarsi a ottenere il massimo impegno. Ogni volta che al secondo tentativo in una gara un atleta non riesce a saltare l'altezza dell'asta, che cosa fa un atleta? mediamente un atleta prende e abbassa leggermente l'asticella di 5 cm per poter avere più chance nel terzo tentativo e terzo e ultimo tentativo o dentro o fuori. Beh, esattamente lui faceva il contrario, esattamente lui mentre tutti gli altri abbassavano di 5 cm lui al terzo tentativo alzava di 5 cm. Il terzo e ultimo tentativo era dimostrare a se stesso di sapere andare oltre. Il terzo tentativo era dimostrare di andare alla scoperta del momento più importante nel momento del massimo impegno di andare o dentro o fuori. E guarda caso quando sei all'ultimo momento e attingi al tuo vero potenziale beh, quando sei all'ultimo momento e sai che quel momento è il momento di corda, è il momento di rottura, è il momento in cui beh, guarda caso grandi, tanti dei suoi grandi record sono proprio deduiti a questa sua grande propensione di sfidarsi fino al mondo e di fino a fine e di sapere che nell'ultimo tentativo c'era l'opportunità di poter attingere al proprio potenziale. Pensate quante volte, pensa quante volte ogni giorno potremmo fare la stessa cosa nel momento della massima stanchezza fisica, nel momento in cui magari la nostra testa non ci sta in qualche modo seguendo, nel momento in cui il tempo sta per scadere per fare una cosa, beh, quello è il momento in cui devi dare quel centimetro di più e quello è il momento in cui puoi veramente fare la differenza. Tutti abbiamo un tempo, tutti abbiamo un tempo limitato a disposizione. Ci sono persone che vivono di più, ci sono persone che vivono più a lungo, ci sono persone che purtroppo vivono un po' meno, ma tu e noi in questo momento, tu, io, noi, tutti quanti in questo video, sappiamo tutti che non si tratta di quanto tempo vivi nella vita, si tratta sempre di ciò che fai del tempo in cui sei vivo e questa è una grande lezione che ci insegna chi veramente vuole attingere il proprio potenziale. Si tratta di lasciare tutto a volte sul tavolo e di assicurarsi di essere all'altezza della propria spinta che ti porta a fare quei 5 centimetri in più. Allora, quando parlo di raggiungere, di espandere il tuo potenziale, non sto parlando di ciò che le altre persone o le società o le organizzazioni pensano che noi dovremmo fare della nostra vita. Quando insegui i tuoi sogni, quando insegui delle cose che in qualche modo ti fanno restare vivo, tutto diventa vivo, ma quando insegui obiettivi e oggetti vuoti, senza senso, beh, per te diventa tutto strano, tu diventi agitato, tu diventi inquieto perché sai che non stai attingendo al tuo potenziale e forse non ne sei consapevole, ma in la tua vita sì. Allora, invece di seguire il tuo potenziale, non ti perdere tempo per cose che non sono futili, inizia a inseguire il tuo vero potenziale perché questo ti aiuterà a diventare la persona migliore che puoi essere in qualsiasi momento e questo, credimi, è forse l'unico obiettivo onorevole che ci sia e che soprattutto la nostra vita ci chiede. Ti auguro di passare una splendida giornata. Ciao, ciao.